Sindaco Truzzo, appuntamento importante, speciale oggi in Comune, che sensazioni sta provando? Un appuntamento importante per l'annullo finanziario per i centali del Caleri Calcio, tra l'altro nell'anno in cui si festeggiano ogni 50 anni dello sudetto, per chi è tifoso è sempre una gioia celebrare momenti come questo. Per lì, anche da tifoso, la ripresa del calcio è comunque riuscire ad avere un po' di normalità come quella di oggi, anche se ovviamente con il distanziamento sociale visti i tempi, cosa le fa provare? Come dicevo prima, è un momento particolare, un momento di gioia e speriamo di poter riprendere anche la visione delle partite, ritornare allo stadio, condividere quei momenti di festa insieme agli altri tifosi. Ecco, cento anni di storia del Caleri che accompagna poi gli ultimi cento anni di storia anche cittadina, per certi versi, che futuro si aspetta visto anche il progetto stadio per questo legame così forte? Il progetto dello stadio è un momento importante perché possederebbe non solo di regalare al Caleri Calcio una casa per sempre, ma anche di avere una riqualificazione di un quartiere importante della città e offrire a tanti cittadini una nuova prospettiva, quindi su questo stiamo lavorando, vogliamo continuare a lavorare con la Regione, con il Caleri Calcio per offrire a Sant'Elia un'alternativa.